Sull'Europa si estende un vasto anticiclone centrato sulla Scandinavia che tende a far affluire correnti nord-orientali secche verso l'Italia e la nostra regione. Il tempo dunque rimarrà bello e stabile almeno fino a Pasquetta. Per sabato e anche per domenica prevediamo del tempo sulla regione, cielo sereno. Sabato mattina ci sarà ancora un po' di borino probabilmente sulla costa che poi tenderà a girare in librezza. Domenica invece 20 a regime di brezza sulla costa. Le temperature minime in pianura saranno attorno ai 7-8 gradi, sulla costa attorno agli 11-12 gradi, massime attorno ai 24-25 gradi in pianura, attorno ai 18-20 gradi invece sulla costa proprio per l'effetto della brezza che porterà aria un po' più fresca dal mare. Anche il giorno di Pasquetta, lunedì, direi bel tempo, cielo praticamente sereno al mattino, poi velature via via più consistenti nel pomeriggio che tenderanno a coprire il cielo. Le temperature forse subiranno un calo di un paio di gradi nelle temperature massime. Martedì probabilmente arriverà invece un fronte, quindi ci aspettiamo cielo coperto con piogge da abbondanti intense, specialmente sulla fascia prealpina e sulle zone occidentali, meno invece sulle zone vicino a Trieste. Sulla costa potrebbe soffrire un po' di vento da est, oscillante tra Scirocco e Bora. Sui monti neve solo in quota al di sopra dei 1.800-2.000 metri circa. È tutto, buona giornata e buona Pasqua.